Mercoledì 23 giugno, se c'è qualcosa che accomuna tutti i segni in questo oroscopo di oggi, in questo oroscopo degli angeli, è un po' la solitudine o la voglia di rimanere un po' appartate, di prendere delle decisioni da soli. Abbiamo la riete, tanto per partire che deve mettersi in mostra, ecco la riete invece oggi ha bisogno di trovare il proprio pubblico. Per i nati sotto il segno del toro, piacevole sorpresa, giornata luminosa, sappiatene godere. Per i gemelli, qui bisogna invece spazzare via i pensieri che vi turbano, un momento un po' di depressione, salite su, non dep ma sopra, non andate giù ma andate al piano di sopra. Per il cancro, l'amore fondamentale, l'amore vi porterà tra le stelle, diciamo così, visto che si parla di oroscopo, nel senso che la testa, la nostra mente viaggerà, la vostra mente amici del cancro. Per il leone, giornata altamente positiva in cui tutto può realizzarsi, ma cosa volete realizzare veramente? Ecco questo dovete chiedervelo in prima battuta. Per i nati sotto il segno della vergine, diciamo che potete portare a termine qualcosa oggi nel migliore dei modi, l'importante è terminarlo all'interno della giornata. Per la bilancia, fate un po' lavorare gli altri, non ditelo ma voi dovete cercare di fare lavorare gli altri, demandate, demandate agli altri. Per lo scorpione, per lo scorpione è già da qualche giorno che c'è questa cosa che va cullata, quindi vuol dire proprio che c'è questo angelo, il geliel che vi sta aiutando a creare qualcosa di nuovo, che però dovete riuscire proprio a plasmare piano piano. Sagittario, per il sagittario vogliamo invece verso lì di d'amore, verso stelle, verso scintille, quindi giornata o anche notte interessante. Ho strizzato l'occhio, non so se per radio si capisce, attraverso il podcast si capisce. Capricorno, natura, cercate di essere voi stessi, amici di Capricorno, affrontate le cose con la massima naturalezza. Acquario, avete persone intorno che vi stanno raccontando, ognuno la sua, però solo una è giusta, attenzione, quindi dovete scegliere tra le varie verità. Nati sotto il segno dei pesci, giornata un po' da maglia della salute, nel senso che bisogna guardare bene prima di fare qualsiasi cosa, essere molto prudenti nella giornata di oggi. Come sempre ci possiamo riascoltare su podcast. L'oroscopo degli angeli di Roberto Forti.